no comunque se tu fai una vita di rinunce puoi sempre abbassare il tuo tenore di vita capito c'è dipende tu cosa vuoi dalla tua vita se tu vuoi la porsche e le donnine e lo champagne e la discoteca e il cacchierpillo e la minigonna e lo shorts e la formentera e capri e i faraioni e il bicchiere di cristallo e la villa vista mare e i pini i pini silvestri e poi che so e gli articoli di giornale e pubblicità e photoshop e la macchina digitale e autoregenti e capito cosa cerchi dell'altro voglio dire se tu hai io per esempio io personalmente io personalmente mi accontento cioè io sono arrivato a un punto dove comunque sia ho raggiunto uno standard no ecco per esempio ristorantini stellati cracco arredamento vintage non so sono arrivato a un punto no comunque ho raggiunto uno standard e cerco di mantenere questo standard che è uno standard basso spesa da lidl niente vacanze niente cinema niente ristorante mare gratis fortunatamente il mare vicino non è proprio vicinissimo comunque sia facilmente accessibile quindi il mare è fondamentale capito io non ce la farei a vivere in città mare vicino quindi quelle da dare una fortuna perché è gratis capito volendo comunque posso farmi delle escursioni abbiamo gli appennini vicini cioè c'ho tante possibilità ho capito ho comunque una figlia quindi ho comunque da ho comunque un impegno no però al momento non ho un impegno lavorativo capito ci aiutiamo a vicende in famiglia nel senso abbiamo la fortuna che non paghiamo un affitto e quindi la mia compagna lavora dopo tutti sei disoccupato capiscono niente perché io sono iscritto al centro per l'impiego ho detto io sono iscritto quindi non ho problemi a dirlo poi sinceramente è questione di tenore di vita certo devi abituarti a fare delle rinunce è chiaro che se vuoi i pneumatici nuovi hai capito i social che ti leccano il direttano e che ne so pubblicità a pagamento nei peggiori locali di caracas